Ricorda queste quattro cose e potrai essere la persona migliore. Guarda questa mattita. Per essere utili ogni volta dobbiamo fargli la punta. Ma se la mattita potesse parlare, urlirebbe quanto è doloroso. Ma questo è necessario per rendere la mattita utile. La nostra vita più o meno è uguale. Attraverso le esperienze dolorose o le sfide traiamo quelle opportunità che ci servono per avere la nostra consapevolezza, avere carattere più forte e avere questa corazza per non fare seconda volta gli stessi errori. La seconda cosa da tenere a mente è che saremo in grado di correggere degli errori che faremo lungo la strada, come la gomma di questa mattita. Quindi impariamo e questi errori non sono errori, sono le lezioni che ci servono per affrontare altre occasioni con consapevolezza. Terzo, proprio come questa mattita, ogni posto che passerai lascia un segno. Stai riscrivendo la tua storia e non smettere mai di scrivere. Quarto, ricorda la parte più importante di te è quello che c'è dentro.